Ben ritrovati a tutti! In questo video tutorial vedremo e ci concentreremo su due caratteristiche di ArcVision RP19. Una delle novità è quella che è consentito gestire le piattaforme di Revit. Un'altra novità è quella che è consentito gestire le superfici, superfici di tipo topografico. Avviamo ArcVision RP19 e concentriamoci un attimo sul build. Questo video è stato realizzato con il build 2018 maggio 24, quindi 24 maggio. Se avete versioni precedenti gentilmente richiedete e scaricate una nuova versione dal sito aziendale. Proseguiamo e concentriamoci subito sulla gestione della piattaforma. Avviamo subito Primus, portiamo in primo piano il listino di esempio, selezioniamo la piattaforma e associamo ad essa una voce di elenco prezzi. Prendiamo il massetto, drag and drop del massetto, gestiamo la superficie, abbiamo trascinato dei metri quadrati, andiamo in descrizione, velocemente nome entità e identità e in parti uguali andiamo per esempio a prendere dai parametri personalizzati la sua area. A noi serve in questo caso per esempio l'area. Salviamo, chiudiamo e facciamo subito un velocissimo computo. proseguiamo e vediamo il risultato del computo. L'area di questa piattaforma è di 540 metri quadrati e in effetti sono stati computati 540 metri quadrati. Concentriamoci velocemente su una seconda novità di Argvishner P19, una delle tante, quella che ci consente di andare a gestire le superfici topografiche. Ho selezionato questa parte che è la parte in cui Revit va a calcolare lo scavo, il riporto, netto, riempimento e il taglio. Questa situazione è una situazione in cui abbiamo una parte di riempimento e una parte di taglio con un valore di scavo negativo. Anche in questo caso, Argvishner P, possiamo gestire le associazioni per famiglia. In questo caso tutto ciò che viene assegnato alla famiglia superficie topografica sarà comune a tutte le superfici presenti nel progetto. Diversamente andiamo a selezionare associo per istanza. Andiamo a concentrarci su questo scavo con questo ID. Iconizziamo il computo appena realizzato e dal listino andiamo a selezionare un rinterro. Drag and drop del rinterro. In questo caso sono metri cubi. Andiamo in descrizione, prendiamo per esempio sempre il nome dell'entità e l'id dell'entità e in parti uguali passiamo ai parametri personalizzati e andiamo a prendere direttamente lo scavo e il riporto netto che ha valore negativo. Ecco, questo è il parametro personalizzato ricavato dallo scavo. Salviamo, chiudiamo e generiamo un computo, in questo caso della sola entità selezionata. E questo è il risultato ottenuto. È una detrazione, quindi è in negativo. Facciamo una verifica e vediamo come sia possibile utilizzare anche più parametri personalizzati accodati tra di loro. Doppio clic sulla misurazione andiamo in lunghezza e andiamo ad utilizzare un parametro in modo diciamo diverso. Andiamo a creare una formula. Prendiamo il riempimento, gli diamo meno un altro parametro che in questo caso è il taglio. Quindi andremo a ottenere un valore nuovamente negativo e salviamo il tutto. Chiudiamo, eseguiamo nuovamente il computo e vedremo che a questo punto avremo due valori in due colonne distinti. Questo che è il parti uguali precedente e questo che invece di fatto è il risultato di due parametri dei tratti. Chiaramente in questo caso siamo sostanzialmente potenzialmente in errore perché abbiamo due valori negativi che sostanzialmente vanno a creare un valore di fatto positivo. Ma questo è un errore voluto. Perché? Perché è stato semplicemente fatto un esempio. Ritorniamo sulla gestione dell'associazione e andiamo ad aggiornare la misurazione per istanza andando a rimuovere per esempio questo secondo parametro. Salviamo nuovamente, chiudiamo, rigeneriamo il computo e vedremo che effettivamente quando il valore è uno solo ed è negativo Primus va giustamente in detrazione. Concludiamo selezionando entrambe le entità. Quindi selezioniamo sia la piattaforma che il terreno. Eseguiamo il computo completo e vediamo come venga gestita contemporaneamente sia la topografia, la superficie col suo ID in negativo e la piattaforma col suo ID in positivo. Si conclude in questo modo questo breve video dedicato alla gestione della computazione delle piattaforme e delle superfici topografiche con incluso il calcolo dello scavo e del riporto. Grazie per l'attenzione e vi demando alle prossime video guide. Saluti Claudio Mussa